Abbiamo ancora delle voci, lui è uno scrittore, un autore televisivo, ha scritto delle cose che hanno segnato la vita di molte persone nei percorsi umani, Matteo Bibianchi. Allora per prima cosa volevo dire che gli organizzatori sono dei bastardi ad avermi messo dopo l'Ella Costa. Io sono uno scrittore e non sono abituato a parlare avanti alle platee perché le rappresentazioni dei libri vengono in dieci persone, quindi dirò delle cose molto personali. La prima è che qualche giorno fa circolava su Facebook una serie di vignette e la vignetta rappresentava un vescovo che con una croce picchiava della gente e a un certo punto uno di quelli che veniva picchiato riusciva a strappargli la croce dalle mani e faceva per romperla. E lui a quel punto urlava, per carità, un po' di rispetto. Ecco, questa vignetta a me non ha fatto ridere per niente ma mi è sembrata la rappresentazione della mia vita omosessuale da adulto. Cioè la vita di una persona che da anni deve mostrare rispetto verso un'entità che non gliene mostra mai. E a un certo punto uno si stanca. Si è già parlato varie volte ovviamente in questa giornata dell'orribile teoria gender però io mi ricordo anche un'altra cosa di un paio di anni fa che quando c'era per l'ennesima volta il tentativo di far passare una legge contro l'omofobia io avevo letto che una serie di chiese avevo organizzato delle novene di preghiera perché questa legge non passasse. E questa notizia mi aveva molto colpito perché l'omofobia è una forma di razzismo. Cioè la gente stava quindi pregando per mantenere il razzismo. E mi sono detto ma veramente la gente ha capito per cosa sta pregando? Perché a me è sembrato veramente un po' impossibile. Cioè la cosa che mi fa più paura del nostro paese è che è questa manipolazione dei concetti tale per cui si sta trasformando il fascismo in qualcosa che non ha più quel nome lì. E la gente è confusa in questo senso. E questo è ancora più spaventoso perché non hai dei nemici precisi da combattere. Ma è della gente che per certi versi potrebbe essere tuo alleato ma non l'è più perché gli sono state raccontate male le cose. E questo a me fa paura. E l'ultima cosa che voglio raccontare perché sono già esaurito è che settimana scorsa c'è stata la cena dei 30 anni dalla maturità con i miei compagni del liceo. E ci siamo trovati della classe di 22 persone eravamo in 12 sopravvissuti. E a un certo punto ci siamo messi a parlare come sempre si racconta insomma come è andata la vita eccetera eccetera. E a un certo punto mi sono reso conto che tutti i presenti del tavolo erano o divorziati o separati. Io ero l'unico con una relazione stabile di 18 anni. E la differenza tra me e loro però era che loro avevano testimonianze e documenti che non solo testimoniavano le loro relazioni ma anche il fallimento delle loro relazioni. La mia non la testimonia nessuno, è solo nella mia testa apparentemente. E quindi io penso che da questo stato mi merito di più. Grazie, ciao.